Cari amici interisti e non, e dico e non perché so che fra di voi c'è anche qualche juventino, e questo mi fa molto piacere, davvero, perché vuol dire che hanno capito che io non ce l'ho con nessuno e neanche con loro, sebbene io sia un interista. Ok, allora dicevo, cari amici interisti e non, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, specialmente a quelli che si sono iscritti al canale, hanno cliccato sulla campanella, hanno messo un like e hanno lasciato un commento, ok, ok. Allora, veniamo all'argomento, all'argomento principale, poi c'è anche qualcos'altro, riguarda qualcos'altro di cui parlerò subito dopo. Allora, perché scandalo al pallone d'oro? Esclusioni assurde, perché? Perché nella lista di France Football, per l'assegnazione del pallone d'oro che avverrà, lo ricordo, il 28 di ottobre, ci sono Cialanoglu, Sommer e Lautaro, e questo va bene, questo non è lo scandalo, lo scandalo è tutto un'altra, è tutto un'altra, ve lo dico fra un attimo. Volevo dire questa cosa su Lautaro. Siccome Lautaro ha fatto e vinto più dei vari Mbappé e Holland, che ho menzionato fra l'altro nel video di ieri, riterrei scandaloso, tanto per incominciare, tanto per un assaggino, riterrei scandaloso che non arrivasse almeno fra i primi tre. E a dirla tutta, riterrei scandaloso se non vincesse. Ma in questo giudizio potrei essere un po' di parte e quindi non mi spingo fino ad affermarlo. Anche se in realtà ne avrei una gran voglia. Perché? Perché lo vorrei affermare? Perché Rodri, che sarebbe a quanto pare il massimo pretendente al titolo, al premio, perché ha vinto la Premier e ha vinto l'Europeo, non ha fatto quello che ha fatto Lautaro. E cioè, Rodri ha vinto l'Europeo e la Premier League, che è un campionato importante. Ma Lautaro invece ha vinto il campionato di Serie A, che è uno dei più difficili che ci siano, perché qui da noi non sono forti soltanto le prime uno, due o tre squadre, sono forti tutte quante le squadre. Anche quelle che arrivano ultime in classifica sono forti e ti possono far perdere, chiunque. Comunque, ha vinto il campionato di Serie A, con venti punti di vantaggio, stravinto. Inoltre, ha vinto anche la Coppa America, ragazzi. Ha vinto la Coppa America. Ma non solo ha vinto la Coppa America, l'ha vinta come capo cannoniere della Coppa America e anche capo cannoniere del campionato italiano, uno dei cinque più importanti d'Europa. Quindi non scherziamo. E non solo non finisce qui Lautaro, ha vinto anche il premio di miglior giocatore della Coppa America. E ha segnato in finale, facendo vincere all'Argentina la Coppa America. Vedete voi, vedete voi. Io spero soltanto che quei signori lì di France Football siano sportivi, sportivi e meritocratici. E così premino chi lo merita e non le cartoline. Ci siamo capiti, è vero? Riguardo, tornando di nuovo riguardo, tornando a France Football, trovo scandaloso, una delle cose che trovo scandalose, perché non è solo questa, trovo scandaloso che uno dei migliori centrocampisti d'Europa non sia stato inserito nella classifica dei trenta finalisti. E mi riferisco naturalmente a Varella, che in tutta Europa è considerato uno dei più grandi, se non il più grande, centrocampista d'Europa. A France Football non l'hanno inserito. Come mai? Come mai? Non capisco, non capisco. Eh, forse perché è italiano. Scusate se mi permetto di dire questa cosa. Può sembrare razzista, però Varella è italiano. C'è la Noglu, Lautaro e Sommer non sono italiani. Lautaro sì. No, no, scusate. Varella sì. Ma non solo Varella. Anche Bastoni, riconosciuto universalmente come uno dei migliori, se non il migliore, difensore d'Europa, non è inserito nella lista. Altro italiano fuori. Altro italiano fuori. Di Marco, uno dei migliori terzini sinistri d'Europa. Com'è che non è nella lista? Come mai? Ma andiamo avanti. Andiamo avanti perché qui entriamo in un argomento, se no, che è veramente fastidioso. Poi ditemi voi cosa ne pensate riguardo a questo. A me sembra una cosa vergognosa. Vergognosa. Da italiano, non da interista, da italiano, penso che sia una cosa vergognosa. Ma sappiamo che alla Francia, ai francesi, l'Italia non è che piaccia tantissimo. Ora, io mi spingo fino, queste sono supposizioni, ipotesi, sono supposizioni, non faccio affermazioni definitive. No, no, no. Però mi spingo fino a pensarlo. Come faccio a non pensarlo? Voglio dire, Bastoni, Barella e Di Marco, esclusi dalla lista dei 30? Esclusi? Ci sono in Europa dei giocatori nel loro ruolo, migliori di loro? Chi? Qualcuno ci sarà, ma pochi. quindi possono tranquillamente rientrare nella lista dei 30? Ma sono italiani e chi dirige France Football non lo è. Diciamo che sono francesi che non amano molto gli italiani, non ci hanno mai amato molto e probabilmente non ci ameranno mai molto. Tant'è che qui arriva un altro scandalo. Arriva un altro scandalo. Scandalo a metà stavolta. Scandalo a metà. Però scandalo di brutto. Nel senso, tu, France Football, non inserisci nella lista dei migliori allenatori in zaghi? E' uno scherzo. Una butade. E' uno scherzo. Tu non l'hai inserito in zaghi? In zaghi? E' stato inserito Gasperini? Per questo dico cosa a metà. Perché fra i migliori allenatori d'Europa è stato inserito Gasperini e non in zaghi? e non in zaghi? Ok. Ammetto che l'esclusione dalla Champions dell'Inter a causa della partita con con l'Atletico ha certamente influito. Però in zaghi ha vinto il campionato con 20 punti di vantaggio. Lo stesso campionato dove militava anche Gasperini che è finito a un chilometro di distanza dai zaghi e che quando hanno giocato l'Atalanta e l'Inter l'Inter ha vinto due volte facendo sei gol in due volte e non prendendone neanche uno dall'Atalanta di Gasperini. Attenzione bene attenzione bene non sto dicendo che Gasperini non doveva essere inserito nella lista sto dicendo il contrario che doveva esserci inserito soprattutto ai zaghi e poi magari anche Gasperini anche Gasperini ragazzi e non sto dicendo che in zaghi doveva vincere avrebbe dovuto vincere il pallone d'oro come miglior allenatore no però inserito nella lista cavolo sì voglio dire gli altri che sono stati inseriti nella lista togliendo Guardiola e togliendo Ancelotti che ovviamente loro due ci sono cosa hanno fatto gli altri di meglio di quello che ha fatto in zaghi o mettiamoci anche Gasperini Gasperini ha vinto l'Europa League e quindi merita va bene a parte a parte quei tre lì gli altri cosa hanno fatto in più di quello che ha fatto in zaghi ragazzi io non lo so veramente mi sembra mi sembra di sognare sto guardando qui un attimo perché me l'ho segnato un paio di cosette per non dimenticarmi non è che mi distraggo sarò ok ecco questo questa me la stavo dimenticando questa me la stavo dimenticando ora io in zaghi come allenatore me lo gioco con tutti in Europa me lo gioco con tutti non so se anche nei vostri modi di dire rientra questa cosa ma penso di sì come vuol dire per me in zaghi può vincere contro chiunque per me è migliore di tutti gli altri e vi spiego perché vi spiego perché se nella famosa famosa per noi finale di Champions giocata con il Manchester City quando in zaghi era forte e adesso lo è ancora di più lo è ancora di più a parti invertite come sarebbe andata a finire quella partita a parti invertite nel senso se in zaghi fosse stato l'allenatore del Manchester City e guardiola l'allenatore dell'Inter come sarebbe andata a finire in zaghi con tutti quei top player che ci sono nel Manchester City e guardiola con i nostri bravissimi giocatori anche qualcuno anche qualche top player perché adesso sappiamo che lì abbiamo anche noi top player però non tanti quanti ce ne sono nel Manchester City ora come sarebbe andata a finire se in zaghi avesse avuto il Manchester City a disposizione ve lo dico io come sarebbe andata a finire 5 a 0 per il Manchester City 5 a 0 altro che un 1 a 0 risicato che se non era per quella specie di autobus che avevamo in avanti in attacco che ci ha impedito di fare gol se non fosse stato per quell'autobus lì non so come sarebbe andata a finire ma se in zaghi avesse avuto il Manchester City a disposizione se in zaghi avesse anche oggi il Manchester City a disposizione non c'è Real Madrid che tenga ragazzi non c'è Real Madrid che tenga vincerebbe in zaghi io ne sono sicuro qui lo dico e qui lo confermo accendiamola ok ok basta basta questo argomento perché già mi ha fatto irritare abbastanza veniamo un attimino al mercato al mercato due parole due parole sul mercato ci sono tante chiacchiere tante ipotesi tante suggestioni in giro però io avendo forse forse capito un pochino come ragiona il maestro Marotta mi concentrarei su di uno solo e lasciarei prendere tutto il resto uno solo Jonathan David a quanto pare sembra sembra che ci sia già un accordo non solo un accordo verbale diciamo un accordo verbale fra Marotta e l'entourage del giocatore insomma è il giocatore un accordo nel quale si è anche già parlato di cifre di soldi di fresca come dicono a Milano credo Milano non lo so naturalmente anche questa volta come tutte le altre volte in cui l'Inter ha adocchiato un giocatore si sta cercando di inserirsi anche la Juventus che ce lo vuole portare via come ha già fatto altre volte giunto lì giunto lì lui secondo me sta cercando di diventare la fotocopia di Marotta e tutto quello che fa Marotta lo fa anche lui lo copia immediatamente perché così se fa quello che fa Marotta è sicuro di non sbagliare di non fare figuracce e di non farsi cacciare dalla Juventus e un giorno quando Marotta smetterà di fare quello che sta facendo di fare il presidente o come quello che sta l'amministratore quello no allora lui potrà dire di essere il migliore d'Italia però non avendo più Marotta come esempio non so come farà vabbè comunque dai a parte gli scherzi a quanto pare l'anno prossimo Jonathan David si libererà sarà a parametro zero e verrà a giocare nell'Inter poi col mercato si sa può sempre succedere qualcosa può sempre succedere qualcosa e quindi magari la Juventus ci porterà via anche Jonathan David perché loro magari arrivano prima possono spendere noi non possiamo perché Oak Tree che i soldi li ha ma non li vuole spendere e quindi magari può darsi che la Juventus ce lo porti via va bene se ci porterà via Jonathan David noi prenderemo qualcun altro voglio dire con Marotta alla guida io non mi preoccupo mai non mi preoccupo proprio di niente ragazzi perché quello quello è il number one è il numero uno il numero uno diciamo nell'italiana ma veniamo alle note piacevoli le ultime dopo chiudo perché mi sono già dilungato abbastanza le notte piacevoli tanto per per non affrontare il resto della giornata con l'amaro in bocca ma con un bel sorriso praticamente mentre i soliti media cacciaroni boccaloni bugiardi chiacchieroni spargevano in giro la voce che c'era stato un abboccamento fra l'Inter e la Roma per per uno scambio frattesi cristante cosa non vera vabbè comunque il nostro Davide se ne stava in disparte tranquillo sereno ascoltava e si spanciava dalle risate quindi ci spanciamo dalle risate anche noi perché sono tutte tutte fake news quelle lì fake news se gli piacciono i termini in inglese cosa che a me invece non piacciono non piacciono pur parlando l'inglese preferisco usare l'italiano quando parlo l'italiano comunque vabbè le fake news cioè fandonia bagianate fesserie bugie bugie allora è senz'altro vero che frattesi vorrebbe giocare di più questo è chiaro e mi meraviglierebbe il contrario vorrei anche vedere insomma cioè è un calciatore non un calzolaio con tutto il rispetto per i calzolai sempre che ne esistono ancora non lo so perché adesso la gente non si fa più risuolare le scarpe le cambia e buonanotte vabbè comunque a parte questa questa parentesi Davide a differenza di quelli che abboccano alle fandonie di questi ciarlatani questi giornalisti da quattro soldi o anche youtuber perché poi si ricalca l'orma no lui lui è lui ha un cervello in pratica Davide il nostro Davide ha un cervello lo sa bene che davanti a lui ci sono dei mostri sacri per ora ma sa anche bene che se aspetta poi il suo turno arriverà e da quel momento in avanti chi lo toglie più lui aspetta che fretta c'è gioca nell'Inter ragazzi e quando e quando c'è da e lui si tiene pronto e quindi quando c'è da da giocare da farsi trovare pronto lui lo è sempre sempre ci ha fatto vincere partite lui è sempre pronto e l'Inter lo sa molto bene tant'è vero che non ci pensa neanche lontanamente a privarsene poi come ho detto poco fa si sa il mercato magari può succedere qualunque cosa se arrivasse soprattutto adesso nell'era di Oak Tree che è un fondo e quindi se arrivasse un'offerta che non si può rifiutare chiedo scusa ai siciliani se arrivasse un'offerta che non si può rifiutare allora l'Inter valuterebbe e ne parlerebbe magari col giocatore e si valuterebbe insieme che cosa fare che cosa fare ma se non arriva un'offerta che non si può rifiutare allora chiedo scusa di nuovo chiedo scusa di nuovo allora Davide rimane all'Inter punto e basta punto e basta iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella mettete un like un commento lasciate un commento e ditemi in questo commento quello che ne pensate di queste cose che vi ho appena detto soprattutto di quella cosa la scandalosa di France Football non ho parole ragazzi absolute e burdelli ciao a tutti e forza Inter polsa Inter a tutti